Siamo assieme a due grandi amici di Sapere e Sapori, Mel Menzio, direttore del mercoledì e Carlo Montrucchio, presidente dell'Accademia della Tradizione No Gastronomica del Piemonte. Cominciamo da Mel, media partner di Sapere e Sapori con il mercoledì, ma anche e soprattutto, questo è il motivo dell'incontro di oggi, ideatore e fondatore di Un Po in Tavola. A Mel una domanda subito al volo, quella che facciamo tutti i nostri ospiti, qual è il tuo piatto preferito? Io sono un mangiatore di carni, quindi tra i vari piatti l'imbarazzo è grande, però il numero uno è il vitello tonnato. Parliamo di Un Po in Tavola, raccontaci questa tua iniziativa e quali saranno i prossimi appuntamenti. Un Po in Tavola è un'intuizione che è nata dal vedere che c'erano una serie di manifestazioni, tutte sull'onda dell'enogastronomia, con grandi sforzi degli organizzatori, con mille difficoltà a far tornare poi anche i conti, perché di questi tempi bisogna sempre anche guardare l'aspetto economico. L'intuizione è stata quella di creare un network gastronomico attivo, nel senso di mettere insieme alcune grandi manifestazioni che avvenivano sulle rive del Po, e in particolare a Carignano e a Moncalieri. Ovviamente nel 2012 e di qui in avanti il progetto ha l'ambizione di ampliarsi. Per ora riguarda Carignano, la famosa sagra dei Ciappinabò, la grandissima fiera nazionale della trippa di Moncalieri e poi il gran finale con Sua Maestà al Bollito. Ovviamente qui c'entra, come ho detto prima, il grande amore mio per la carne e per la carne cucinata, realizzata con le antiche ricette piemontesi. Mel è anima pulsante nel territorio sud della provincia di Torino, soprattutto con il tuo settimanale, con il mercoledì. Qual è il vostro territorio di competenza e le caratteristiche del giornale? Allora, il mercoledì è un settimanale storico dell'area sud-torinese, ha l'edizione base che è quella legata al territorio di Moncalieri, dal quale poi si è diffuso. L'edizione di Moncalieri comprende tutti i comuni della collina torinese sud, quindi che vanno da Trofarello, Peccetto, Cambiano, per scendere poi nella collina che degrada verso il Cuneese con Villa Stellone, Santi e Napoierino per arrivare sino a Carignano. Di lì parte poi l'edizione legata a Carmagnola, che ha delle parti in comune, delle parti dedicate alla cronaca specifica di quel territorio, con i comuni di Carignano, Vinovo e La Loggia. Ovviamente, proprio in questi giorni, mi fa piacere ricordarlo, stiamo festeggiando i 18 anni, quindi il mercoledì diventa maggiorenne e abbiamo per maggio e giugno tutta una serie di iniziative rivolte a fidelizzare, ma soprattutto a stare molto vicini a far partecipi i nostri numerosi lettori e in particolare i nostri abbonati, che tutti i mercoledì mattina, per tutto il mese di maggio, verranno da noi a prendere il caffè gratis. Fantastico, una piccola pagina di enogastronomia e di collaborazione fra l'informazione e l'enogastronomia. Veniamo adesso a Carlo Montrucchio. Come stiamo vedendo questo incontro fra l'Accademia e la tradizione enogastronomica, l'Istituto Alberghiero Prever, competenze dei ragazzi, come vedi l'insieme Carlo? Dunque, per noi parlare dell'Istituto Prever di Pinerolo e di Accademia delle Tradizioni e quindi di ricupero della tradizione piemontese è veramente una soddisfazione e una gioia. E' da anni che collaboriamo perché abbiamo ovviamente capito che bisogna ricominciare dai giovani per destare maggior interesse sulle ricette, sui gusti piemontesi, perché loro imparando a farli riusciranno a trasmetterli nel tempo, nella loro professione e poterli ridiffondere, cosa che attualmente si constata che è un po' debole. I nostri ristoratori hanno quasi paura a mettere nel loro menù dei piatti tipici piemontesi e abbiamo una certa soggezione che bisogna scrollarci di dosso. Lo sforzo nostro è questo e la scuola qui, l'Istituto Prever, ci sta dando una mano grande per poter superare questo impatto con una realtà che si era un po' fossilizzata. Vediamo quindi, siamo giunti al secondo, vediamo che cosa propone l'Istituto. A te Caterina. Sì Max, adesso presentiamo il filetto alla Voronoff. Grazie, stavamo appunto dicendo piatti della tradizione e abbiamo visto un bellissimo filetto alla Voronoff. Come interpretiamo e come inseriamo, colleghiamo l'internazionalizzazione del Piemonte con la tradizione? Sono voci che si possono ancora legare insieme oppure stridono? Direi di no, innanzitutto per fare anche un buon filetto alla Voronoff, l'ideale per chi è in Piemonte è usare le nostre grandi carne di fassone, per cui un piatto con un sapore antico può essere ritrasmesso utilizzando prodotti del nostro territorio che sono meravigliosamente interessanti. E poi comunque non bisogna fermarci, limitarci. Forse questo è stato il problema di un tempo dove o tutto piemontese o tutto straniero. L'integrazione legata proprio ad approfondire i sapori di uno e dell'altro e abbinarli e operare insieme è utile, importante. Il nostro centro studi sta lavorando anche proprio per prendere le ricette storiche e vedere come i nostri chef possono in qualche modo modernizzarle. Però l'importante è dire utilizziamo i prodotti del nostro territorio e quindi la cucina diventerà più comune e più interessante. Anche perché, sarete d'accordo tutti e due, anche Mel, il peperone tipico di Carmagnola non è proprio originario di Carmagnola ma arriva dal Nuovo Mondo, il mais della nostra polenta piemontese arriva dalle Americhe e probabilmente anche alcuni di questi ragazzi di questo istituto arrivano magari da altri paesi e stanno imparando qualcosa di nostro. Come vedi tu questo abbinamento fra mondo e Piemonte? Allora, se si mantengono le tradizioni vive, se non si misconoscono sono delle ricchezze perché indubbiamente lo scambio di culture e in questo caso di culture e di modi di elaborarli, di modi di proporli sono indubbiamente una ricchezza. Come noi, per tornare al nostro bollito, quest'anno cercheremo l'accordo con degli giovanissimi chef per proporre questo piatto che per molti è percepito come il mangiare il bollito, un mangiare da vecchi. E allora, probabilmente è solo questione di cambiare nome, di abbinarlo a delle salse diverse, a proporlo in un altro modo. La sostanza della qualità e della tipicità restano. Grazie a Mel, grazie a Carlo, diamo ora la parola alla nostra Federica e al nostro Mauro per l'angolo del narratore del vino. Grazie Max e siamo con il nostro Mauro per il nostro consueto angolo del vino. Grazie Federica, oggi vista la particolarità dell'uditorio e il luogo in cui ci troviamo, in realtà cercherò di raccontarvi una storiella dove verranno messe in evidenza le varie fasi del preparare la bottiglia per berla. Allora vi racconterò questa cosa qua. Faccio ordine nella mia cantinetta un giorno, piccola ma buona, a dir la verità è un pochino umida, ma dietro le file di bottiglioni tutti messi in bell'ordine, in realtà mi appaiono vestite di polvere decennale delle bottiglie che, spaiate, hanno ancora in bella vista l'etichetta scritta da mia madre a mano, nebbiolo. Riconosco le bottiglie che mio padre riempiva di vino che andava a prendere in Damigiana una volta all'anno a Castellinardo, in una delle due sponde del fiume Tanaro. Le imbottigliava nel primo plenilunio di Pasqua, perché questo permetteva al vino di avere un leggero frizzantino dentro, proprio per effetto della luna. Era un vino ricco, scuro, era sempre sulla nostra tavola nelle giornate di festa, nelle domeniche, e aveva sicuramente delle grandi dote di fondista, perché ne ho bevuto uno anni fa ed era estremamente buono. Ed ecco, ora è lì davanti a me. Un vino è memoria, perché fa risalire alla mente degli attimi che ognuno di noi pensava di aver oramai dimenticato. Domani avrebbe potuto essere il compleanno di mio padre, che compiva 85 anni. Allora proviamo a festeggiarlo bevendo una bottiglia che aveva anni fa messo da parte lui. Prendo una bottiglia per portarla a casa, meglio due, perché col vino vecchio, non si sa, potrebbero esserci delle sorprese. Che cosa faccio? Che come mi devo comportare? Quanto tempo prima devo aprire una bottiglia di vino? Ricordo un libro, Il vino è memoria, che dice che per un vino vecchio tu puoi aprirlo addirittura 24 ore prima. Allora se devo festeggiare domani è l'ora di aprirlo. Prendo la bottiglia di vino. Tolgo il tappo. Uso un cavatappi, il primo che mi è capitato alla mano. Ho paura di rompere il tappo. In realtà faccio molta attenzione. Giro il cavatappi nella vite e facendo attenzione a non sbriciolare il tappo vedo che però reagisce bene questo tappo. Abbasso il braccetto. Cerco di tirarlo fuori. In realtà vedo che il tappo scivola, reagisce bene. Ha preso la forma della bottiglia ma è ancora elastico. Riesco a stapparlo bene. Per cui un ultimo colpetto e il tappo esce. Sul vino galleggiano delle briciole. Dovrei sboccare la bottiglia. È un gesto che mio padre faceva in modo quasi automatico. Ora dovrei farlo io. Ho un po' di paura perché non vorrei urtare la bottiglia nel lavello e quindi rischiare di romperla. Ma lo faccio e vediamo cosa viene. Ecco, ho vuotato. Un po' di vino è uscito e con esso si sono liberati dei profumi e dei sapori. Sa di polvere questo vino, di terra, di sudore, di fiori calpestate. È un attimo e svanisce. È ancora vivo. Lo lascio ossigenarsi. Lascio la bottiglia aperta perché deve raggiungere la temperatura dell'ambiente. Ho un decanter. In realtà ce l'ho perché l'ho vinto con i premi della benzina. In realtà sono quelle cose che tu tieni negli stipi di qualche armadio e poi ti ricordi come adesso che può venirti utile. Di conseguenza prendo questo decanter. Prendo la bottiglia. Verso il vino in modo lento, lento, lento. Così come ho visto fare alla televisione in modo da non far fuoriuscire il vino e far emergere i profumi che questo vino ha. Questo vino ha il colore dei mattoni delle chiese barocche piemontesi. Al tramonto. Rosso su rosso. Giro e rigiro il decanter alla luce della finestra e poi lo accosto. In realtà torno ad annusarlo. Si sta spregionando il profumo del vino per cui sta riempiendo la mia cucina. Vado a letto, mi sveglio pensando, buon compleanno papà, oggi è la tua festa. In realtà attendo la sera, arrivo a casa la sera e in realtà preparo un pochino tutto l'ambiente. Con un vino così devo prendere un qualcosa di strutturato, di importante. Ho delle gallette salate, del formaggio di montagna, ottima e media la stagionatura, che mi permetterà di bere e di prendere tutto quello che questo vino può darmi. metto sul tavolo la bottiglia impolverata, scelgo i bicchieri, li pulisco e vuoto il vino nei tre bicchieri. Ora il colore del vino è un pochino sbiadito, ma il profumo è intenso e netto, come se avesse barattato il suo rosso con il sentore di rose sfogliate che mi stanno raggiungendo. Alzo il calice, poi mi concentro sul sapore. È quasi liquoroso questo vino, ha il sapore della terra calda, dei nostri posti. Al sapore di una domenica di tanti anni fa, di un abbraccio fra mio padre e mia madre, o di una finestra che si apre per la prima volta dopo l'inverno. Bevo il vino. Gli altri due bicchieri sono rimasti intatti, ma io sono felice lo stesso. Grazie. A tutti quanti vi rinnovo il nostro motto che è, mi raccomando, non guidate perché dovete bere. Grazie e alla prossima puntata.